1318 cortometraggi in concorso provenienti da 76 nazioni che trattano di argomenti impegnativi quali la violenza di genere, la pedofilia, le guerre e altri più leggeri come la spensieratezza dell'infanzia, le situazioni grottesche dovute all'uso improprio dei media. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati durante la settima edizione del Calat Nissa Film Festival che si terrà in città il 25, 26 e 27 maggio. Il premio alla carriera quest'anno sarà conferito a Milena Vucotic, presidente onorario Ugo Gregoretti, direttore artistico per il terzo anno Roberto Giacobbo, che vestirà anche i panni del presentatore assieme a Rosaria Renna e Annalisa Inzardà. Tantissime novità, una delle quali è una giuria completamente rinnovata con sette elementi dove il presidente onorario della giuria sarà Laio Shkoltai che l'anno scorso è stato il nostro premio alla carriera. Quest'anno ci sarà la presidenza di questa nuova giuria formata da personaggi del mondo del cinema, vingitori di Davide De Nonatello, di Nassri d'Argento e quindi un salto di qualità perché il nostro festival qui a Cotanissetta viene visto in maniera positiva. Tra le novità abbiamo il partenariato con l'Ator Academy, quest'anno si esibirà Floriana Sicari con Nunzio Bodanonna, ci sarà il contributo dei Vigili del Fuoco per quello che stanno realizzando in Italia perché dobbiamo vantarsi delle nostre forze che ci aiutano ad andare avanti, ci sarà il Mago Normal che sta avendo successo eccezionale veramente, ci saranno tanti personaggi che sposano la nostra iniziativa. Ringraziamo l'associazione per l'invito di Voltroci, per noi è molto importante dimostrare ancora una volta l'attaccamento e il radicamento in questa città dei Vigili del Fuoco. Staremo queste tre giornate lungo la piazza con i nostri mezzi, con i nostri uomini, mostrando le nostre specialità, vedremo di fare qualcosa di particolare e di più specifico e in ogni caso avremo modo di dimostrare ancora una volta di essere così vicini a questa città. Una manifestazione ideata dall'Associazione Culturale Laboratorio dei Sogni che in questi anni ha raggiunto alti livelli di gradimento internazionale che tra le novità vedrà una categoria tutta dedicata ai corticomici. Un festival che fa cultura, un festival che fa conoscere Caltanissetta e che diventa proprio quasi il centro del mondo. Tutti guardano a Caltanissetta per questo festival che sempre diventa più professionale, ogni anno diventa più professionale, ma grazie alla disponibilità e alla motivazione che caratterizzano gli animatori della manifestazione. Noi non possiamo che essere orgogliosi di quello che Caltanissetta riesce a fare e che riesce a produrre nel contesto del mondo.